Andrea Scanzi, ma Giorgia Meloni è sempre in tensione per usare la formulazione di Paolo Mieli perché alla fine i problemi maggiori ce li ha con i suoi, con la sua stessa compagine o perché ci sono oggettivamente tutta una serie di questioni difficilissime da affrontare che la aspettano, che sono già sul tavolo oggi? Intanto secondo me Meloni è sempre in tensione perché ha soltanto questa velocità qua non è che io la Meloni la ricordi pacata, elegante, garbata ha avuto il successo che ha avuto urlando dalla mattina alla sera quindi questa è Meloni, non è che una volta che va al governo improvvisamente diventa la Thatcher la Meloni è questa cosa qua, sì in Europa si pettina un po' di più ma la Meloni è questa cosa qua e funziona perché si avverte nel suo elettorato anche una sua grinta, una sua forza, una sua sincerità poi Meloni fa bene a esultare e a festeggiare perché ha vinto anche in Liguria anche se a margine ricordo che rispetto a tre mesi fa gli europei ha preso 100 mila voti in meno quindi in realtà una certa disillusione c'è ma come dicevano Garaccio e Lemieli se dall'altra parte non c'è opposizione la disillusione non se ne accorge nessuno perché lei scende ma gli altri a parte Schlein scendono ancora di più però un elemento secondo me importante ed è uno dei motivi per cui Meloni continua ad attaccare è che è molto redditizia questa comunicazione fateci caso, chi ha attaccato anche oggi nei giorni scorsi Meloni per l'ennesima volta? i sindacati che sono una delle categorie più odiate dal elettorato del centro-destra i giornalisti idem con patate e poi chi? i giudici gli antifascisti, ne parliamo magari dopo i giudici ragazzi io capisco che si parli tanto della sconfitta del centro-sinistra però quello che per me emerge da quanto è accaduto in Liguria è un tema e cioè l'elettorato di centro-destra non tutto ma molto quei pochi che ancora vanno a votare se ne fregano allegramente della questione morale perché credono veramente che ancora esistano retocche rosse e che i magistrati abbiano una precondizione negativa nei confronti di Meloni e quindi Meloni alimenta quella benzina in Liguria hanno rivotato il centro-destra dopo che Toti è stato settimana e settimana agli arresti domicilari e ha patteggiato una condanna e l'elemento decisivo è stato uno come scaiola io neanche sapevo che esistesse ancora Bucci non ha vinto perché è un fenomeno, lo sarà anche ma ha vinto perché a Imperia il capo bastone scaiola ha portato i voti altrimenti avrebbe vinto Orlando la Meloni sa che il suo elettorato non tutto ma buona parte è così e quindi alimenta il fuoco attacchiamo i magistrati così mi votano di più attacchiamo i giornalisti così mi votano di più attacchiamo i sindacalisti così votano di più e funziona in questo modo è l'Italia, non è che lo dico io lo dice la realtà alimenta il fuoco Brunella Bollolli costantemente Giorgia Meloni mi fa un po' sorridere quando Scanzi parla della Meloni all'attacco che vince soltanto perché è all'attacco perché se la prende con tutti in Liguria è andata così come è andata Liguria ha vinto il buon governo ha vinto un candidato che era che Bucci che ha fatto bene da sindaco nonostante le inchieste giudiziarie che hanno cercato di azzoppare la Liguria e hanno costretto Toti alle dimissioni il centrodestra si è rafforzato semplicemente perché c'è stata un'offerta di pragmatismo di buon governo e di compattezza che dall'altra parte non c'è stata perché nel centro-sinistra non riescono a mettersi d'accordo alla fine la Meloni risponde a degli attacchi perché no, non è che va tutto bene però cerca di far guardare i conti no, perché allora se va tutto così bene non si capisce perché ma forse ha ragione Scanzi che senza alimentare questo fuoco poi non funziona il giochetto Se pensiamo ai dati economici comunque vanno bene Voglio chiedervi un'altra cosa adesso perché con un certo stupore abbiamo letto della sottosegretaria all'istruzione di Fratelli d'Italia Frassinetti che ha citato una frase di Robert Brasiac Ora, ci vuoi tu da storico ricordare chi era Brasiac perché in Francia se una persona pubblica citasse una frase di Brasiac dovrebbe dimettersi il secondo dopo In Italia non succede niente anche se questo era un nazista che dirigeva un giornale sia antisemita Era un grande scrittore e un grande filo nazista ma soprattutto piace a una certa destra per due ragioni uno l'antisemitismo e l'altro questo estetismo perché c'è tutta una parte del pensiero fascista nazista eccetera che oggi torna di moda per fattori più esoterici ed estetici che non politici Però però viene citato sono le continue provocazioni a cui noi a volte abbocchiamo lui viene citato perché è un eroe della cultura antisemita negli anni 50-60 per chi si è formato Ma viene citato a proposito della massa su Roma Non perché non perché è un grande scrittore No, certamente Perché di altri scrittori non ha fatto Fissata però insomma mi fa un pochino mi fa impressione Scanzi Ma no ma al di là del ruolo dell'importanza della bravura di Brasiac stiamo parlando della Frassinetti La Frassinetti è la sottosegretaria della pubblica istruzione è un'esponente storica ex fronte della gioventù ex movimento sociale adesso fratelli d'Italia Nel percorso della Frassinetti ci sono altre uscite che sono dichiaratamente nostalgiche è una che ha fatto ha partecipato a degli eventi organizzati da Lealtà Azione che è un movimento di estrema 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 destra milanese è una che nel 2017 se non ricordo male il 25 aprile invece di celebrare la resistenza che fatica un po' a celebrare andò a omaggiare i caduti di Saloi se non sbaglio i volontari italiani dell'SS cioè il tema secondo me è questo che noi ormai accettiamo ed è giusto perché hanno vinto le elezioni ma accettiamo seraficamente in maniera quasi atarassica il fatto che c'è una sottosegretaria alla pubblica istruzione che è ho detto di istruzione evidentemente un lapso freudiano dichiaratamente nostalgica quindi quando ci si chiede perché Meloni e Fratelli d'Italia non si dichiarano antifascisti la risposta è nella domanda è molto semplice perché non lo sono poi non sto dicendo che sono tutti fascisti non mi permettere mai è falso ma di sicuro non sono antifascisti e nel caso della Frassinetti secondo me se le dai della nostalgica fascista non credo che si arrabbi non credo che si offenda questa qui è sottosegretaria alla pubblica istruzione però che ogni giorno nasca una cosa del genere un giorno Giulio un giorno San Giuliano e poi anche per lei era responsabile della scuola di Fratelli d'Italia la Frassinetti li ha scelti la Meloni non è che vengono non è che sono degli UFO non abbiamo vorrei ricordare anche questo lo so che lo sai Paolo ma era solo per ricordare questa cosa che si fa sempre il discorso la Meloni è brava però purtroppo la classe dirigente ce li ha messi lei spesso non è che sono stati catapultati da Plutone o da Urano infatti dicevo poi forse anche da un altro fattore che questi signori che dovrebbero governare fanno di tutto forché governare cioè si divertono facendo citazioni partecipando a dibattiti eccetera ma ho l'impressione che abbiano un problema di occupazione cioè nel senso che non sono in grado di governare o di beh sarebbe interessante sapere diciamo nel suo mestiere nel suo mestiere che cosa sta facendo questa signora la Frassinetti poi fare una cosa su Brasiliac dire che è una partita di calcio è un po' passando per la marcia su Roma lasciamola perdere forse un'altra ipotesi può fare che questa sia una tattica perché siccome poi vincono le elezioni quella di farci passare con delle tutti i giorni ogni giorno cambiando copione l'importante l'importante è non abituarci a queste cose sì penso che questo sia una cosa che ha detto Scanzi prima penso che questo sia da sottolineare che non bisogna abituarsi perché poi uno si abitua a tutto è un po'